Siamo a Kansas City, nel Missouri in questo momento, di fronte abbiamo la downtown, di fronte abbiamo il monumento e il parco che ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale. Questo finora è stato il più bello hotel che abbiamo avuto, vero che è stato il più bello hotel? Chi abbiamo incontrato qui? 50% Che vanno alla Betel